Siamo a un corso per Detective Zombie. Qui si impara a uccidere Harry Potter con un solo sguardo diretto negli occhi. Ma proprio un semplice sguardo basta a Luigi che nella vita è un mostro informatico per uccidere le persone. Quattro secoli fa Galileo venne famoso sostenendo di poter piegare un'astronave aliena con la forza del pensiero. In realtà per piegare un'astronave aliena è basta un'interrogazione parlamentare. Coraggio trago biancochi blu. A quanto pare sono in vantaggio. Mago Nero, posizione difensiva! Vittorio Emanuele Maria Albert Tommaso Eugenio Ferdinando Tommaso Maria Emanuele Ferdinando Albert Ferdinando Tommaso Maria Eugenio Fissavoia era pallido alto più di 78 metri. Si rivelò un incorregibile seccaiolo. Tutta questa statua è stata realizzata con la fusione di ben 21 persone. Primo re di Taffia. Grazie. Come state caro Garibaldi? Bene, e voi? Gata Caccio Ball! Gata Caccio Ball! Gata Caccio Ball! Grazie a tutti